Partirei dall'analisi dello scenario dell'industria delle telecomunicazioni in Italia e in Europa negli ultimi anni, direi. L'industria è stata caratterizzata da una decrescita dei ricavi dei servizi tradizionali, fondamentalmente voce e messaggistica. Ciò è avvenuto a causa di due fattori fondamentali. Primo fattore, la guerra di prezzo tra operatori dei servizi di telecomunicazioni su voce e messaging, servizi indifferenziati sui quali le telco non hanno investito in innovazione e ricerca nel corso degli anni. E altro fattore importante, la competizione da parte dei cosiddetti over the top, che hanno offerto servizi voce e messaging molto spesso in forma gratuita per alimentare i loro modelli di business strumentali, quindi al sviluppo di ricavi da advertising. Oggi però è nato un processo di trasformazione importante nella società, nella nostra industria, in altre industrie. E la digitalizzazione, nuove reti, data center, cloud computing, big data, sono tutti aspetti che abilitano una nuova digital life per le persone e per le imprese. Quindi grande opportunità per posizionarci in maniera distintiva rispetto alla concorrenza e rispetto agli over the top. Però per cogliere queste opportunità offerte dalla digitalizzazione è necessario disporre di un modello di innovazione, puntare quindi su innovazione e su ricerca. E Telecom Italia lo sta facendo, lo sta facendo su fattori distintivi importanti, quali qualità, prossimità, sicurezza nell'offerta dei propri servizi. Con questo riteniamo di poter giocare un ruolo fondamentale per i nostri clienti e per l'agenda digitale del nostro paese. Una delle sfide del futuro è l'internet of everything. Per un telco la sfida è quella quindi di trasportare, gestire, interpretare una crescente quantità di dati generati da oggetti e da persone. Come possiamo farlo? Con un sistema di innovazione, un sistema di innovazione aperto e complesso. Complesso perché l'innovazione deve riguardare le tecnologie, i modelli di business, il modo di lavorare, deve riguardare le competenze di cui siamo dotati. Deve essere aperto perché deve essere in grado di interconnetterci con l'innovazione generata da altri enti, università, partner tecnologici, perché il mondo cambia velocemente, non possiamo permetterci di restare isolati o pretendere di sviluppare in casa tutta l'innovazione rilevante. Grazie a tutti.